Ho saputo che c'è un grande bar in cima a quell'edificio laggiù e si dice che servono un ottimo rischio. I giapponesi ti consiglierebbero di evitare anche i proiettili. Mettiamo la vita a rischio ogni giorno. È vero, però ce la caviamo sempre. No, non sempre. Non posso neanche immaginare quello che tu hai passato. E non ho le responsabilità che hai tu. Hai le tue di responsabilità. È vero. E ora ho capito che tu sei in cima alla vita. Si può sapere di che parli. Non puoi sempre prendere decisioni giuste. A volte è importante prendere anche decisioni sbagliate. Il tuo scopo è aggiungere anni alla tua vita. Il mio scopo, invece, sarà assicurarmi che tu la vedrai. Eh? Eh? Ok. Limiteremo gli alcolici da domani. È così che si ragiona. Andiamo? Sì, vengo.